Io e la mia paura di Francesca Sanna Ho sempre avuto un piccolo segreto, una piccola amica che si chiamava Paura. Paura mi ha sempre protetto, tenendomi al sicuro. Insieme abbiamo scoperto cose nuove e affrontato grandi avventure. Ma da quando siamo arrivati in questo nuovo paese, Paura non è più la stessa. Cresce e cresce ogni giorno di più. Io ogni tanto vorrei uscire per vedere il mio nuovo quartiere, ma con Paura non se ne parla nemmeno. Quando devo andare a scuola, lei non vuole che vada. Paura odia la mia nuova classe. E quando il maestro mi ha chiamato sbagliando il mio nome, lei si è arrabbiata tantissimo. Ma io so che il maestro non l'ha fatta apposta. Durante l'intervallo, Paura mi tiene tutta per sé. Meglio stare qui, tanto io non capisco cosa dicono gli altri. E nessuno capisce me. Appena la scuola finisce, Paura non vede l'ora di tornare a casa. E la sera a cena mangia più che può. La notte, nella mia nuova camera, Paura sogna così forte che io non riesco a dormire. A scuola mi sento sempre più sola. Paura dice che è perché non piaccio a nessuno. Beh, nemmeno a me piace stare qui. E questo cos'è? Un bambino della mia classe vuole farmi vedere qualcosa. Piano piano iniziamo a disegnare e a colorare insieme. Durante l'intervallo voglio uscire con lui a giocare. Andiamo, Paura! Finalmente corriamo fuori in cortile. Ma all'improvviso un cane abbaia da dietro il cancello. Grida il bambino, correndo a nascondersi dietro una cosa piccola e sorridente. Anche lui ha una paura segreta come me. Pensavo di essere l'unica ad averne una. Giorno dopo giorno, Paura diventa sempre più piccola. E ora le cose a scuola vanno molto meglio. Ancora non capisco proprio tutto, ma ho fatto una grande scoperta. Anche tutti gli altri bambini hanno una paura. E ogni tanto giochiamo tutti insieme. Se ti è piaciuto il libro, in descrizione trovi il link per comprarlo. Ah, e non dimenticare di iscriverti. Per non perderti i prossimi libri. Per non perderti i prossimi libri.